Nome? Ferdinando. Giallo. Cognome? Vito Francesco. Megoli. Squadra? Casarano. Nardò. Numero di maglia? Due. Quattro. Ruolo? Terzino o Giorli? Dentro della pista. Sei pronto per il derby? Sì. Sì, sono molto pronto per il derby. Chi può fare la differenza? L'ambiente, i tifosi e il cuore. La differenza la può fare il gruppo, la squadra. Di chi avevi il poster in camera? Due terzini del Milan, Cafu e Serginio. Il poster in camera era di Messi. Chi ti favi da bambino? Juve. Juventus. Obiettivo del campionato? Stare più in alto possibile e cercare di vincere questo campionato. Non abbiamo un grosso obiettivo. L'importante è raggiungere prima possibile la salvezza e poi divertirci dopo. Chi vince il mondiale? Per me è il Brasile. Il mondiale penso lo vinco alla Francia. Quanto sono importanti i tifosi per voi? Tantissimo. Ci caricano tanto per la partita e sono fondamentali. I tifosi sono molto importanti. Peccato per la partita di domenica che non vengono a causa delle restrizioni, però i nostri tifosi ogni domenica ci danno una grossa mano. Un punto di forza della tua squadra? Ma il gruppo, il carattere. Un punto di forza della squadra, come ho detto prima, è il gruppo e l'unione di tutti. Un pro rossico? Una bella partita sicuramente. Speriamo 1-0 per noi. Non mi piace fare con i nostri, spero di portare a casa la vittoria. Saluta il tuo avversario e dagli appuntamento a domenica. Ciao Giacomo, ci vediamo domenica. Saluto Vito Francesco, ci vediamo domenica al Capozzi. Bocca al lupo.